E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale perché seguiremo la Lazio-Sarriana, in questa serie A ammireremo le avventure della Lazio del comandante, quindi iscrivetevi mi raccomando, seguitemi sui social, guardate i video già fatti, sia quelli di calciomercato, quelli del commento della parte dell'Inter, guardate tutto, lunedì faremo un bel punto sul campionato e le altre parti, E insomma ragazzi mica male, mica male questa Lazio del comandante, questa prima Lazio di Sarri, che come vi dicevo è una squadra che penso che già con questo tipo di interpreti, ma poi ci veniamo, possa fare bene con questo allenatore, ci sono elementi interessanti che possono fare bene, specialmente dal centrocampo in su con questo allenatore, Ho visto una squadra che ha già messo a referto diversi concetti del calcio di Sarri, non tanto nel dominare la partita, nell'avere sempre il controllo della gara, ma anche e soprattutto nelle trame, nel dialogo, nel lavoro tra i vari interpreti, Ci sono giocatori che si trovano, ci sono giocatori che si cercano, ci sono delle belle trame anche in fase di ripartenza, quando magari l'avversario perde palla perché tu lo pressi, tu riparti in velocità, ci sono delle belle trame offensive, La Lazio ha sbagliato diversi gol che veramente erano stati costruiti con delle azioni veramente belle, penso anche a quella se non sbaglio era con Raul Moro, comunque in fase di possesso molto bene, si vede già la mano del mister, si vede comunque un lavoro portato avanti, Le uniche cose un po' da valutare sono in fase di non possesso, perché comunque ho visto una squadra che a livello di dinamiche difensive, che è anche normale perché giochi a 4 da poco, hai giocato a 3 fino a tutto l'anno scorso e poi anche quelli prima, quindi è normale che la squadra debba giocare assieme per trovarsi e per imparare e per capire. Fase difensiva ma soprattutto anche manca un filtro a centro campo, che probabilmente potrebbe arrivare dal mercato perché si parla di questo basic, io all'epoca feci il nome di Dendonker, ovviamente è difficile arrivare a Dendonker, però era quel tipo di giocatore lì, nel senso uno che può sicuramente dare una mano in fase di impostazione, ma anche quando perdi palla dare una mano in fase difensiva nello strappare i palloni all'avversario. Questo l'ha fatto molto bene fin tanto che è stato in campo Pedro, che ha fatto un'ottima partita, però Pedro va valutato a seconda del minutaggio, nel senso bisogna vedere quanto riesce a stare in campo a questi livelli, perché oggi fin tanto che è stato in campo ha giocato benissimo. Se fisicamente regge, acquistone, bisogna vedere quanto riesce durante la partita, nel corso delle settimane, nel percorso, quanto riesce a stare a questi livelli. Qui stasera è una partita quasi perfetta di Pedro, soprattutto in fase di non possesso, era uno di quelli che tornava, che sradicava palloni, che recuperava, che faceva molto bene. Mi è piaciuto moltissimo Raul Moro, io sono d'accordissimo con Sarri, Moro e quell'altro Romero, sono due ottimi giovani. Mi è piaciuto Immobile, che nonostante abbia segnato solo, tra virgolette, su rigore, ma comunque lo si è visto fare quello che un attaccante in un 4-3-3 deve fare. Cioè anche sponde per i compagni, utilità, un buon lavoro, si vede che il mister Sarri gli sta dando una mano da quel punto di vista lì. Non mi ha entusiasmato Milinkovic-Savic, che non ha fatto una cattiva partita, ma il Milinkovic-Savic che conosco io stasera era il 30%, diciamo, stasera, del Milinkovic-Savic che conosco e che potrebbe essere. Luis Alberto è entrato poi nel secondo tempo, tra l'altro era una Lazio senza Corea Luis Alberto, tra l'altro, quindi voglio dire, per essere una prima partita, assolutamente non male, ma vi ripeto, io sento che si dice che magari c'è dello scetticismo, io penso che la Lazio abbia già un'ottima squadra e che Sarri, mettendoci mano, possa fare bene. È una squadra ovviamente che più gioca assieme e più mette a referto quelle che sono le idee dell'allenatore, che sono diverse magari da quello che c'era fino a poco tempo fa, però penso che ci si possa assolutamente, penso che possa fare assolutamente bene. A livello di prestazioni individuali, oltre a Petro, un altro che mi è piaciuto tantissimo è Lazari, cioè Lazari, io sono convinto, come dice anche Sarri, che non vedo il problema di farlo giocare a 4 invece che a 5, cioè Lazari, se poi dovevi monetizzare per fare mercato, vabbè, quello è un altro discorso, però ragazzi, giocatore clamoroso, cioè una velocità pazzesca, altro che è meglio di Hakimi, è meglio di Hakimi, Lazari stasera è meglio di Hakimi, cioè ha iniziato un po', un attimo che doveva trovarsi, poi però dopo 15 minuti, un treno, un treno in fase di possesso, in fase non possesso, gol stupendo, cioè proprio un giocatore totale, un altro che ha fatto una partita clamorosa è Luis Felipe, totale, meglio anche di Acerbi, partita totale di Luis Felipe, Lucas Leiva ha fatto la sua partita, bene le ali, bene i giocatori comunque offensivi, non mi è dispiaciuto Hakpaq, però comunque ha fatto il suo, insomma non è che stiamo parlando di Xavi, però ha fatto una partita insomma decente, ma ragazzi, vi ripeto, molto bene in fase di possesso perché ho visto una squadra che ha già messo a referto, che sta già comunque lavorando nella mentalità e nel percorso del mister, in fase di un possesso tra mercato, tra andare avanti nelle inerzie, capire come ragiona il mister, capire come si gioca con sto schema è un qualcosa che arriverà nel percorso. Per quel che riguarda l'Empoli è stata una bella partita, anche per merito dell'Empoli, perché comunque è una squadra che ha una sua idea di gioco, che ha una sua mentalità, che ha un suo impianto, che ha una sua identità e ha diversi elementi giovani interessanti, in primis quel Bairami, che è il Bepi, se ci avete seguiti l'anno scorso quando parlavamo di Serie B, abbiamo tenuto d'occhio, assolutamente, abbiamo detto, questo è un signor giocatore, il 10 dell'Empoli sono sicuro che quest'anno in Serie A farà molto bene. Bairami è veramente un giocatore da tenere d'occhio, ma non solo lui, anche Ricci stesso, Bandinelli che ha fatto comunque un ottimo gol, sebbene che Reina sul primo gol, secondo me Reina poteva fare qualcosina di più, però comunque ottimo gol anche di Bandinelli. L'Empoli qualche giovane interessante ce l'ha, una squadra comunque, ripeto, con la sua identità, vedi che stanno in campo con un'idea consolidata nel tempo, quando un giocatore arriva, comunque arriva in un impianto di gioco che c'è, che c'è da tempo, che si vede che continua, e Andrea Zoli comunque non è mona, e a tratti ho visto anche un Empoli che ha fatto la partita, che ha dominato, non ho visto una Lazio che ha schiacciato l'avversario nella sua area, ho visto una Lazio molto qualitativa, che ha dei giocatori di livello superiore, che era molto brava nel recuperare palla rapidamente, nel ripartire con molta qualità e nello strutturare ottime azioni di gioco, ma non che l'Empoli sia stata un'aspettatrice inerme, diciamo, a subire passivamente quel che succedeva. Quindi una bella partita tra due squadre diverse sicuramente, ma due belle squadre, vedo comunque un Sarri sul pezzo, un Sarri leader, un Sarri veramente comandante di questo Lazio, che può togliersi delle sue soddisfazioni. Allora, vado con le pagelle, Reina, Reina sicuramente ha salvato su quel tiro ravvicinato, è stato bravo anche lui, oltre che a Luis Felipe, diciamo che gli do 6 per la vittoria della squadra, però continua a non convincermi in tutto, devo essere onesto, continua a non convincermi in tutto, gli do 6 di media, dai. Lazari gli do dal 6 al 7, gol, prestazione stupenda, dal 6 al 7, un giocatore che mi è sempre piaciuto, l'avrei portato alla Fiorentina ancora quando era all'Aspalio, primo anno, ma giocatore totale. Luis Felipe, idem con patate, dal 6 al 7, a Cerbi, 6 e mezzo, partita ordinata, partita bene, solita partita di ordine e serenità. Isai, croce delizia, nel senso che ha perso delle palle veramente stupide, però ha fatto anche delle belle ripartenze, una buona velocità, gli diamo un 6 più di media. Milinkovic-Savic, sì, ha fatto il gol, però vi ripeto, bello stacco di testa, ma di quel gol lì è stato bello il lavoro di Felipe Anderson, soprattutto. Lui è stato bravo a farsi trovare pronto, bravo a segnare un gol in una situazione in cui potevi pagarla, però un po' spariziero per il resto della partita. Gli do un 6 più di pungolo, avrei potuto e voluto dargli di più, però gli do 6 più. Lucas Leiva, 6 più, ACPAC Pro, 6, Pedro gli do 6 e mezzo, Immobile, 6 e mezzo, Felipe Anderson, 6 e mezzo, Escalante, 6, Luis Alberto, 6 più, comunque bravo a tenere la palla in una situazione nella quale c'era bisogno di far passare minuti, di sgonfiare l'Empoli, quindi ha fatto un lavoro da mago, diciamo, no? Classico. Quindi gli do 6 più, Raul Moro, 6 più, Anderson, 6 più, Murici, 6, voto a Maurizio Sarri. Beh, signori, siamo alla prima partita, io ho visto un buon lavoro, ho visto comunque una squadra che ti fa pensare che più il tempo va avanti, più si giocano partite, più i giocatori continuano a seguire bene il lavoro del mister, c'è di che divertirsi, insomma, specialmente in attacco, specialmente con i tri offensivi. Io non posso immaginare se gli prendi un esterno, diciamo, magari un altro esterno offensivo per Sarri, se va via a Corea e un bel centrocampista, con i controcoglioni, bisognerà vedere sto Basics, secondo me i laziali hanno di che divertirsi. Ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi, un caro saluto. Grazie.